Oggi è lunedì, quindi nuovo video by the rumors, sell the news. Questa settimana Bitcoin, la reazione del weekend, dove ci porterà? Mentre i miner vendono Bitcoin in maniera consistente. La decentralizzazione per Solana e altri protocolli su di essa è un'utopia. La Russia sta sviluppando un sistema per aggirare il band al circuito SWIFT, utilizzando la blockchain. Discorso di Putin al San Pietroburgo, forum, nulla sarà più come prima. E per ultimo, Celsius come Bitfinex, ci sono speranze di rivederlo operativo? Benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto, dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Vissimo, questo è il grafico settimana, in questo momento ci vediamo a 20.600 dollari circa. Questa è stata la candela della settimana scorsa, un bel rosso. Ha toccato perfettamente la macro trendline che avevo disegnato un po' di tempo fa, quindi ha direttamente toccato i 17.680 dollari circa, e poi abbiamo visto un buon recupero. In questo momento sarebbe importantissimo recuperare questa falling wage, il che significherebbe invalidare la candela della settimana precedente. Saremo a vedere questa settimana come andrà. Ad ogni modo potremmo anche rivedere addirittura un retest di questo supporto, per poi eventualmente vedere un rimbalzo. In questo momento le cose sicuramente non sono assolutamente cambiate, quindi non aspettatevi un cambio trend, perlomeno insomma non è probabilmente realistico in questo momento. Però insomma non mi ristupirei a vedere bitcoin in zona intorno fino ai 29.000-30.000 dollari circa, per poi magari eventualmente continuare la discesa se le cose non cambiano. Ma sicuramente insomma riprendere questa falling wage sarebbe sicuramente il primo passo. Ci vogliono volumi, in questo momento i volumi non ne abbiamo. Per quanto riguarda lo stocastic RSI, siamo in iper venduto, quindi io mi aspetto anche, visto tutti gli indicatori, visto che abbiamo toccato la macro trend line, visto che siamo in questa zona, io spero e voglio sperare insomma che una reazione positiva ci dovrebbe essere. Veniamo da un periodo che tralasciando questa candeletta abbiamo avuto tante tante candele rosse, quindi anche a livello probabilistico mi aspetto una bella candela verde, poi naturalmente nessuno prevede il futuro. Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, siamo scesi sotto il trillion, è stata una situazione un po' particolare dove le principali criptovalute come Bitcoin e Ethereum hanno perso diversi punti percentuali, così anche BNB, mentre invece tutte le altre come Cardano, Ripple, Solana, Dogecoin, Polkadot, AVAX, hanno invece guadagnato Litecoin anche. Quindi è stata una settimana diciamo un po' particolare, è una settimana che non vedevamo da diverso tempo, perché vedevamo sempre Bitcoin, se non altro, performare meglio o perdere meno rispetto al coin. Questa settimana non è stato così. Ma mentre appunto questo sta capitando, i miner di Bitcoin continuano a vendere Bitcoin, aumentando la pressione di vendita sul mercato. Sono usciti dei report, quindi per quanto riguarda le società di mining pubbliche, e hanno venduto 4.411 Bitcoin nell'ultimo mese, e qui sono quattro volte in più rispetto alla media dei mesi da gennaio ad aprile 2022. Infatti questo grafico è indicativo, come vediamo a maggio c'è stato un aumento delle vendite rispetto ai mesi precedenti. Questo perché? Perché più si va avanti con il tempo, quindi con gli halving, più la capacità di estrarre un blocco si dimezza. Infatti originariamente si ricevevano 50 Bitcoin per ogni blocco estratto, in questo momento invece vengono pagati 6.25 Bitcoin per ogni blocco estratto, e le stazioni di un blocco avviene circa ogni 10 minuti. E naturalmente laddove il prezzo di Bitcoin è elevato, riescono a sostenere. Laddove il prezzo di Bitcoin inizia a scendere, diventa chiaramente più difficile da sostenere. Oltre a questo chiaramente il prezzo dell'energia elettrica che sta andando alle stelle, naturalmente sono i stipendi dei dipendenti, quindi devono vendere Bitcoin per entrare in possesso di valutafia, per pagare insomma le spese quotidiane. La Russia sviluppa un sistema blockchain per sostituire lo SWIFT. Infatti il gruppo russo Rostek, che è un'organizzazione governativa che include numerose società tecnologiche, ha annunciato di aver sviluppato una piattaforma blockchain per lanciare un sistema digitale per i pagamenti internazionali in grado di sostituire il sistema globale SWIFT. Il sistema digitale dei pagamenti consentirà alla Russia di pagare le sue importazioni nella sua valuta nazionale, ossia il rublo al posto del dollaro. E secondo sempre il gruppo Rostek, il nuovo sistema consentirà invece ai paesi esseri di pagare le loro importazioni dalla Russia anche nelle loro valute nazionali. Questa nuova blockchain si chiamerà CHELTS. Per quanto riguarda il CEO del gruppo Rostek ha promesso che un nuovo sistema di pagamento internazionale garantirà transazioni sicure e ad alta velocità, perché questa blockchain può eseguire circa 100.000 transazioni al secondo, con la possibilità anche di poter raddoppiare questo numero. Quindi la posizione della Russia è nettamente cambiata dopo che lo scorso gennaio aveva proposto alla banca centrale russa il ban di tutte le criptovalute. E questa informazione esce dopo il discorso di Putin al Forum Economico di San Pietroburgo, il quale afferma che nulla sarà più come prima. Infatti lancia bordate contro Stati Uniti ed Europa, l'era del mondo unipolare è finita e questo cambiamento è parte della storia e non è reversibile. Gli USA si ritengono poliziotto del mondo e agiscono facendo finta di non notare che ci sono altri centri forti nel mondo. afferma che le sanzioni contro la Russia si sono riversate contro Europa e contro Stati Uniti. Lui afferma che ci saranno dei cambiamenti epocali per quanto riguarda il nuovo ordine mondiale, ci saranno dei ribaltamenti e che i leader occidentali rimangono nell'illusione che non sia così, si aggrappano al passato e sono convinti che domineranno per sempre l'economia e la politica. Poi ha parlato anche dell'inflazione russa, degli Stati Uniti, europea e via dicendo. Ha parlato anche per quanto riguarda le materie prime, i prezzi, quello che potrebbe avvenire in futuro. Poi afferma che benché l'Occidente punti il dito contro la Russia e la sua invasione nel Donbass come causa principale dei forti tracolli di mercato, in realtà secondo lui non è così. Comunque sia, se vuoi approfondire questo aspetto vi lascio qua sotto in descrizione il link al video dove c'è questo intervento di Putin, ti consiglio di vederlo ma a prescindere dal tuo pensiero in modo tale che puoi ascoltare anche un altro punto di vista sicuramente differente da quello che vediamo tutti i giorni in modo tale che tu possa ascoltare entrambe le campane ed eventualmente farti una tua opinione. È sicuramente un video molto molto lungo, c'è comunque sia la traduzione sotto in italiano a meno che tu non sia un fenomeno in russo che a quel punto puoi tranquillamente evitare di metterla. Veniamo adesso a questa notizia per quanto riguarda Solend il protocollo DeFi sulla blockchain di Solana qui c'è stato un batti e ribatti ossia non so se ne è al corrente ma in pratica un utente, una whale aveva preso un prestito di 108 milioni di stablecoin garantito da un importo di 170 milioni e quindi che cosa poteva succedere? In pratica se il token SOL fosse sceso a 22.30 dollari il conto della banca sarebbe stato liquidato. Il problema è che la whale in questione aveva il 95% dei depositi di token SOL nella piscina principale di Solend e in pratica se ciò fosse avvenuto Solend sarebbe stato a rischio di accumulare crediti inesigibili a causa di un calo a cascata del valore di Sol. E quindi questo che cosa ha scatenato? Ha scatenato il fatto che il team ha lanciato una votazione Lampo per tentare di effettuare un'altra operazione ossia piuttosto che liquidare in automatico questo wallet che questo wallet sarebbe stato liquidato tramite un accordo over the counter quindi fuori dalla normale contrattazione. È stata lanciata questa proposta durata pochissimo dalle altre cose e l'88% dei voti proveniva da un singolo indirizzo il quale naturalmente ha votato sì ed è passata questa proposta. Quindi in pratica diciamo si sono impadroniti di questo wallet e potono farci quello che meglio credevano quindi cioè decidevano loro come sarebbe dovuto essere liquidato in che modo eccetera eccetera. Naturalmente questo mina in tutti i modi possibili e immaginabili il discorso di decentralizzazione mentre invece nella nottata è stato lanciato un nuovo voto di governance con il 99% di voti a sostegno per annullare la precedente decisione. E allunga i gambe, ripiega i gambe ristenda i gambe, ritira i gambe ma ricoprigli i gambe io gli toglierai quei gambe. Secondo insomma il team di Solend hanno ascoltato la community hanno detto che questo minava la decentralizzazione eccetera 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 quindi hanno lanciato questo nuovo voto che è passato con il 99% dei voti che ha annullato la decisione precedente. Sarà forse perché il token Sol ha guadagnato terreno e quindi diciamo si è distanziato da questa soglia. Potrebbe essere questo il problema? Non lo so, fammelo sapere tu scriverlo qua sotto nei commenti invece vuoi conoscere un qualcosa di più sulla blockchain di Solana relativamente parlando ad alcuni possibili rischi o meglio a un qualcosa che a me personalmente mi fa storcere il naso ti lascio qua sopra un link a questo video. Andiamo adesso invece al piano di recupero di Celsius il cofondatore di Bank to the Future Simon Dixon ha proposto un piano di ripristino simile alla soluzione offerta a Bitfinex dopo il suo hack di Bitcoin nell'agosto del 2016. Secondo lui la finanza tradizionale non aveva una soluzione tempestiva per Celsius come abbiamo visto con MT Gox che è rimasto risolto per 10 anni per quanto riguarda invece Bitfinex è stata risolta in soli 9 mesi e ha funzionato molto bene. In pratica che cosa è successo? Bitfinex ha perso circa 120.000 Bitcoin in un attacco hacker per una perdita di circa 72 milioni di dollari che cosa hanno fatto? Piuttosto che perseguire la procedura di liquidazione Bitfinex ha invece scogitato un piano di recupero innovativo che prevedeva promesse di rimborso sotto forma di token BFX ai clienti che rappresentavano il valore del denaro perso nel hacking. Questi token erano negoziabili sul mercato aperto e potevano essere trattenuti in seguito per il rimborso futuro di un dollaro per token in pratica un token valeva un dollaro e consentivano agli utenti di speculare sul recupero dell'azienda. Circa sette mesi dopo Bank to the Future ha detto che il piano aveva funzionato e le vittime avevano recuperato dal 75% il 100% dei loro fondi attraverso le varie misure a loro disposizione. Ma non solo le istituzioni si stanno muovendo per aiutare Celsius in questo momento si sta muovendo anche la community infatti su Twitter è nato l'hashtag CellShortSqueeze il quale in pratica molto similmente a quello che è avvenuto in precedenza su GameStop prevede di acquistare questi token in modo da liquidare le posizioni short che stanno affossando il prezzo del token Cell. Se ci riusciranno non lo so quindi questo dovrebbe essere anche un esperimento sicuramente da osservare per vedere se eventualmente il token Cell riuscirà nella sua possibilità di riprendere il prezzo così infatti come è avvenuto su GameStop nei periodi precedenti. Nel caso precedente la community di WallStreetBets ci hanno dimostrato che la community è più forte di alcune banche di alcune entità che vogliono affossare un titolo in questo caso quindi staremo a vedere se la stessa cosa può avvenire o meno per quanto riguarda il settore delle criptovalute. È sicuramente interessante da osservare e vedere quello che succederà. Vi voglio lasciarvi un like se questi contenuti vi sono piaciuti iscriviti al canale se non si è registrato la campanella sono di perdi video ciao al prossimo nel Marchese del Cripto buona giornata.